Radio Radicale, siamo con Roberto Giacchetti di Italia Viva per parlare del dibattito sulla situazione di Santa Maria Capoavetere che si è svolta oggi alla Camera. Allora lei sul regolamento della Camera oggi ha fatto un intervento importante perché il Ministro non ha potuto leggere tutta la relazione e ha chiesto che venisse lasciata una parte della relazione agli atti. Allora mi sembra che il Presidente della Camera non l'abbia capita bene. Allora mi spiega che cosa è successo. La seconda parte l'abbia capita. No, il tema è questo, è che la Ministra Cartabia ha fatto una importante e anche cospicua relazione su tutto quello accaduto. La parte preponderante era una serie di cose che sono note, cioè sono i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Poi ha detto che a seguito di quelli il Ministero ha adottato una serie di misure, alcune le ha lette, però ha detto che per esigenze comprensibilmente di sintesi una parte di altre cose, magari non così altisonanti come quelle che ha citato, erano allegate in qualche modo alla sua relazione e le avrebbe potute lasciare agli atti della Camera. Ora il problema qual è? È che alla Camera non è prevista l'acquisizione agli atti, nel senso che quel documento non rimane pubblico come l'intervento della Ministra. Oppure come l'intervento dei deputati che lasciano scritto il messaggio in calce? Sì, ma no, neanche deputati lo possono fare, lo possono fare solo in commissione in alcuni casi. Quindi il problema qual è? Io ho chiesto che quella parte che magari sarebbe stata messa a disposizione dei deputati per vederla, era molto importante che rimanesse agli atti formalmente della Camera nel dibattito pubblico. E quindi ho chiesto al Presidente di trovare una forma, ancorché il regolamento non lo prevede, per far sì che quelle cose che sono probabilmente la parte anche che meno si conosce, perché non sono le cose dell'autorità giudiziaria che conosciamo, non sono i primi provvedimenti presi dal DAF e dal Ministero che conosciamo. Ci sono tutta questa serie di provvedimenti, che è anche interessante sapere quali sono, che devono essere in qualche modo pubblico e non soltanto legati a quello che è la possibilità per i deputati di conoscerli attraverso una scrittura interna all'Aula. Dunque, è stato sottratto una parte del dibattito, nella parte che noi non abbiamo potuto ascoltare in Aula del Ministro? No. Allora, domani leggendo questa cosa, noi avremo la consapevolezza che una parte del dibattito è stata sottratta? No, non è stata sottratta una parte del dibattito, perché la relazione della Ministra è stata assolutamente ampia, particolarizzata e piacendo. E' chiaro che per ragioni di sintesi probabilmente aveva tutta un'altra serie di cose che è utile conoscere, ma che non credo influenzassero il dibattito più di tanto, che ha messo a disposizione, ma che non ha letto lì per la semplice ragione che il tempo era quello che era. Grazie, grazie a Roberto Giacchetti di Italia Viva.